Scusate, è successo un imprevisto. Abbiamo dimenticato il più pezzente dei commercianti. Allora, mi può fare un inquadro? Salve! Salve, siamo di te per la Show International. Ma lei, quanto ha pagato questa bandiera? È felice di oggi? Dele frega dell'Italia! Quanto ha pagato questa bandiera lei? No, lei deve dire, è felice della giornata di oggi? Eh? Mi piace l'omodicolo? È l'italiano, per favore. Ma mi deve spiegare una cosa, lei è CBH24? Sì. Ma perché lei dorme sotto 80 gradi in quella macchina? Con tutto il sudore, da quanto tempo non si lava lei? Non scappare, non scappare. Non corro? Sono l'inviato di striscia alla notizia. Lei da quanto tempo non si lava? Allora... No, dobbiamo scendere. No, voglio vedere le condizioni. Eh, l'ha scritto, dobbiamo far vedere. Stai filmando? Sì, sì. Allora, io voglio vedere, Marco, c'è... Ma lei fa tutte le autorizzazioni delle domande, tu? C'è, insomma... Ma questa è la macchina di... Beh, l'ha scritto, bambini piangenti. Guardiamo qui, c'è... Bambini è normale, c'è... Questa è la macchina... Bambini... Ma questa mazza è che a me è dolce... Com'è che si chiama questa macchina? Questa macchina si chiama? Piangenti, bambini... Perché piangenti? Lei fa piangere i bambini. E non si vergogna. C'è, Fabrizio fa piangere... Poi? La tua invidia è la mia fortuna. Carone. Le dolci crepes. Perché le crepes. A parte quel... C'è, tu? Le crepes sono dolci. Che non scrivi affare? Le piace il filo? La ditta, la ditta. Ma questo mezzo qua, ecco... Cioè, è a norma? Vediamo. Qua vediamo come una... Che cosa sono queste lato? Pinto la scolazione d'amore. Ma lì mi ha messo le mani addosso. C'è la denuncio. È dentro. È dentro. Mi ha messo le mani addosso. Signore di Striscia, la notizia. Fabrizio, che non si lava mai, mi ha messo le mani addosso. Lei mi devi dire una cosa. Da quanto tempo non si lava lì? Il sudore che ha preso oggi, che stava a 40 gradi. Allora, comunque, dai, vediamo un po' se... Resista la prova del nuovo. Guardate come si sta, guardate. Va bene, salutiamo tutti gli amici. Vuole fare un saluto agli amici di YouTube? YouTube, beh, cosa fai? Ma i palloni, da dove li ha comprati? Li ha fatto la fattura? Ma me li ho fatto salutare. Le domande li ha fatte qui? Lei c'è, non l'autorizzazione per stare lì sopra? Sì. Eh, me la fa vedere, per favore. Eh, tu mi fai vedere quella, tu dici che hai pagato, dove hai spagato. Tu non ti preoccupare di me. No, tu me la fai bene. Tu hai detto che io pago. Eh, ma come te lo dici? Lui paga da sette anni. Eh, è bene. Senti. Io sono di Telebracciole International. Eh, quello Bracciole. Sono l'inviato, quindi... Che devo pagare? Vabbè, comunque, lei, il suo... 40 gradi che ha preso oggi, come erano? Stava dormendo a bocca aperta, ma è possibile? Come fa a resistere? Il suo sudore evaporava. Come mai? Niente. Ma la maglietta l'ha cambiata? Sì, sì. Eh? Sì, sì. Le buttanti l'ha cambiata? Sì, sì. Il gioco sul divano. Eh? Stavo dormendo sul divano. Ah, sul divano abbiamo fatto delle foto. In mezzo alla strada. Com'è? Dormire sul divano in mezzo alla strada? Sì, sì. Come c'è la foto? La fotografia. No, ti ho spiegato la cazzo tu. Va bene, un saluto a tutti gli telespettatori. Attendiamo la partita dell'Italia. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao, c'è l'Italia. Uh!